schiacci un po' la mano tu quando contra il quadricipio quando si contra la rotula provo a fare insieme con tutti e due la stessa cosa ti spingi la rotula contro le mie dita in alto via 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 e lasciami via grazie a questa cosa ti spingi forte 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 e lasciami ora lo facciamo con tutti e due che ti aiuti Vai, vai, via, 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 via. Passare un cappuccino, per favor.